Quali effetti psicologici sta avendo la quarantena su adulti, ragazzi e bambini? All'inizio la gente cantava sui terrazzi, poi ha cominciato a cantare in casa e ad ascoltare Fiorello. Adesso credo che tutti siano la disperazione, nel senso che i bambini impazziscono chiusi in casa. Possono uscire i cani, ma non possono uscire i bambini neanche al guinzaglio e neanche con la museruola. Le coppie scoppiano, i rapporti generazionali sono in grandissime difficoltà e credo che non si potrà tirare avanti a lungo neanche per ragioni di ordine pubblico. Quanto si potrà andare avanti secondo lei? Secondo me siamo già alla soglia.